10 minuti tu mi dirai piantala, io cercherò di chiudere, perché sicuramente c'è tanto da dire in questo mio intervento che vuole dire e ringraziare tante persone. Quindi ho scelto in modo convinto di fare questo percorso e vi assicuro che tante persone, anche tra le persone che ho consultato per prime, cioè Emma, Riccardo e Benedetto, diciamo che non mi avevano incoraggiato esattamente, ma anche tanti miei amici mi hanno detto mi sembra una cosa un po' così creativa, però in tante cose che dirò dopo il coraggio è sicuramente una dote che non mi manca, forse anche la testardaggine e secondo me sono nel posto giusto per testardaggine e per coraggio. Il mio percorso e quello di più Europa si è incrociato più volte come persone a livello elettorale, a livello valoreale, a livello di contenuti e quindi non mi sento, non mi sono mai sentito come dire nel posto sbagliato o in un posto che non conoscevo, ma sicuramente in un partito in cui non mi ero iscritto, non avevo militato, in cui avevo lavorato. Quindi dimostrerò con i fatti quello che fino ad oggi ho detto magari con le parole.